I giganti del mare attraccano alle banchine del porto di Gioia Tauro anche nelle ore notturne. È stata infatti la MSC Gulsum, che fino allo scorso anno deteneva il primato di nave porta container più grande al mondo, a fare il suo ingresso nello scalo calabrese poco dopo le 5 del mattino. Operativo 24 ore su 24, il primo porto di trash shipment d'Italia permette l'ormeggio alle sue banchine senza sosta, assicurando il trasbordo container anche a 3 ultra large contemporaneamente. L'operazione è stata resa possibile grazie all'operatività degli uomini della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, che nel coordinare le delicate e sinergiche azioni dei servizi tecnonautici, con due piloti a bordo e tre rimorchiatori impiegati, oltre alla squadra di ormeggiatori pronte a ricevere i cavi della nave, hanno regolato e vigilato sulla manovra d'ingresso avvenuta in piena sicurezza, nonostante la ridotta visibilità notturna lungo il canale portuale. La nave Gulsum, lunga oltre 400 metri, con una larghezza di 62 e una capacità di trasporto di 23.756 teus, non è il primo ingresso nella scala calabrese, ma era stato finora possibile solo alla luce del sole. L'apertura dello scalo ai cosiddetti giganti del mare, anche nelle ore notturne, risponde alla politica adottata dall'autorità di sistema portuale dei mari tirreno-meridionali e Ionio guidata dal presidente Andrea Agostinelli per assicurare la diretta connettività del porto di Gioia Tauro con il mercato del Far East e stimolare così la crescita dei suoi volumi di traffico. Il controllo dell'operazione d'ingresso e di manovra in sicurezza in condizioni di ridotta visibilità e spazi viene altresì assicurato attraverso la recente installazione di un sistema di ultima generazione che rileva e gestisce i dati relativi alla corrente, all'altezza delle onde, alla marea e ai dati meteorologici.